Grazie a tutti. Voglie di poter innovare e avete presente quello che sarà il futuro e questo è importante, la voglia di cambiare, la voglia di essere inseriti perché tutti voi desiderate essere partecipi di questo mondo che potete affrontare. Direi complimenti ai vostri insegnanti come ha detto a lui che vi ha seguiti. Allora noi pensiamo di far sì che si possano fare una scelta di tre modelli da essere esposti a Bologna, a Ginevra poi. Quindi come vi avevo detto all'inizio, modelli delle vostre idee, vorremmo farle tutte e sempre, però faremo la selezione dei video. L'esposizione a Ginevra che diventa poi una tradizione. Quindi onore al merito, bravi, complimenti per il livello e complimenti a tutti coloro che vengono seguiti. Grazie.